Ok, allora ragazzi, abbiamo visto il trailer, non so perché continuo a non sentirlo io, però fa niente. Allora, intanto la premessa è questa, il film non è un horror ed è un thriller, anche se per gran parte della visione non avrete assolutamente l'impressione che sia un thriller. Questa è una cosa interessante per il film. Scusate, scrivo un attimo su IMDB il titolo così ho tutti i nomi degli attori e posso essere più preciso. Allora, è una donna promettente che, insomma, il titolo originale è Promising Young Woman, quindi tradotto più o meno alla lettera, insomma, per il poco inglese che so intuisco questo. Tra l'altro su IMDB ha 7,5 di voto, è una buona cosa, è un film del 2020 che ha vinto l'Oscar come miglior sceneggiatura originale. Vi dirò alla fine della recensione se, secondo me, o a metà comunque, se l'Oscar è meritato, anche se poi, insomma, vale quel che vale perché avrei dovuto vedere tutti i film del mondo per poter paragonare un film agli altri. Il film è di Emerald Fennell, che stranamente tradotto significa Smeraldo Finocchio, cioè proprio una roba strana, comunque. È una regista donna, felicissimo che ci siano sempre più donne a dirigere e vorrei che arrivassimo a un punto in cui sono così tante che, tipo 50-50, anzi, 30 donne, 30 uomini e 30% sesso indefinito, perché ci sono anche tutta una serie di categorie, insomma, ognuno è libero di essere ciò che vuole, quindi più parità nel cinema, sono felicissimo. È definito un drammatico, ma secondo me è anche una commedia, tra l'altro, non c'è scritto commedia su IMDb, però secondo me lo è, è parecchio, anche fa qualche sorriso lo strappa, ci sono delle belle battute, eccetera. È un crime anche, in effetti, ed è un thriller sicuramente, anche se per gran parte del film non ce ne accorgeremo, fino ad un certo punto in cui le cose si evolveranno. Ci sono anche degli attori, tipo Adam Brody, che rende molto commedia questo film, anche la protagonista, che si chiama, come si chiama, Carey Mulligan, ha una faccia un po' da commedia, un po', però adesso queste sono le mie opinioni personali. Comunque, dal trailer capite che la protagonista è una ragazza che finge di essere ubriaca nei locali, quindi esce sabato sera, si finge ubriaca, si fa, diciamo, avvicinare da un cosiddetto bravo ragazzo e si fa portare a casa. Di solito il bravo ragazzo la porta a casa sua e cerca di approfittare del fatto che è ubriaca. Lei a un certo punto, come vedete dal trailer, quindi non è spoiler, comunque ciao Davide Perin, mio Patreon preferito, tra tutti i Patreon che ho, tu sei il mio preferito, sappilo. Dal trailer vedete che lei, tac, switcha e fa vedere che non è in realtà ubriaca e succede qualcosa a questi, come li chiamano in America, Predators, no, Predatori. Perché poi, alla fine, il punto qual è? Che questi bravi ragazzi, ti aiuto io, femmina in difesa perché sei ubriaca e quindi, in realtà sono loro stessi dei predatori, cioè coloro che si staccano il cartellino per primi per andare a molestare questa ragazza. O approfittare del fatto che è ubriaca. Non vi spiego cosa succederà. Di sicuro avete capito che questa protagonista è una protagonista molto attiva in questa cosa che accade. Insomma, fa qualcosa e c'è dietro un motivo. Io non vi dirò nient'altro di più sulla trama, se non che lei era una studentessa universitaria di medicina, molto dotata, che a un certo punto decide di mollare tutto, non avere più amici, e lavorare in una caffetteria e abbandonare gli studi. Quindi la più brava del corso, una delle più brave, abbandona medicina e continua la sua vita senza avere grandi amicizie, senza continuare gli studi. Quindi lavorando semplicemente in una caffetteria e abbandonando qualsiasi studio. Per questo motivo si chiama, il film si chiama Una donna promettente, perché era una donna promettente e a un certo punto ha deciso di stoppare tutto. E poi c'è quello che vedete nel trailer. Non vi dico altro, non credo di essere stato tanto spoiler, quindi c'è tanto da scoprire. Quello che vi posso dire è che il film è scritto benissimo sotto due punti di vista. Uno per la storia, che è molto interessante, proprio come è stata sviluppata, anche perché cambia genere, passa dall'essere una commedia a un thriller in modi molto particolari, hai veramente delle sensazioni strane. Non lo definirei un horror se non fosse per il fatto che siamo di fronte a un argomento molto delicato, cioè quello della violenza sessuale, della molestia nei confronti delle donne ubriache. Voi sapete che uno dei più grandi pregiudizi che sono diffusi, diciamo, nel nostro pianeta è proprio il fatto che una donna che si ubriaca e viene molestata, di solito ha dei grossi problemi a dimostrare che, insomma, non si cercava quella cosa lì e che eccetera eccetera. Chiaramente il film è di una potenza mostruosa e tratta questi argomenti in un modo che io ero al settimo cielo. È un pugno nello stomaco di quelli incredibili. È un pugno nello stomaco. Solo un decerebrato potrebbe vedere questo film e non sentirsi un emerito idiota per tutta una serie di pensieri che spesso si fanno proprio condizionati dal pregiudizio di dire che una donna ubriaca si merita quello che gli capita perché se l'è andata a cercare che poi è sempre il di solito discorso del sei vestita così, sei vestita cosà. Questo film mette un punto, come Antebellum, questa è la versione femminista di Antebellum, questo film mette un punto fortissimo su un concetto. Io posso essere ubriaca, posso essere vestita da porno star, posso essere nuda, posso fare la deficiente, la deficiente inteso, posso provocarti, posso anche decidere di flortare con te, ma tu devi capire una cosa, che nel momento in cui io dico stop, è stop. E se sono incosciente, tu non devi fare nulla. E questo, il film lo dice chiaramente, e le persone, diciamo, in questo caso gli uomini, devono capire questa cosa. Il film è chiarissimo. Ci saranno gli argomenti riguardanti questo tema, ce ne saranno diversi, con svariate sfumature. Insomma, è trattato veramente in modo intelligente questo film, il tema è trattato in modo intelligente. Parlare di argomenti come questi, usando una storia, scritta così bene, non è semplice. Qua è stato fatto benissimo. Oscar strameritato. Stra, 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 stra meritato. Qualche difetto il film potrebbe avercelo? No, diciamo che sono questioni anche un po' di gusto. L'ho trovato un po' rallentato, un po' troppo in certi punti. Sono comunque due ore di film, quasi. Quindi, in certi momenti, frena un attimo, ma non è noioso. Cioè, nel senso che comunque la storia procede. E anche se certe parti potrebbero sembrare un po' lunghe, forse sono anche funzionali a creare un certo stato d'animo. Ci sono degli ottimi dialoghi, anche dal punto di vista proprio della commedia, perché ci sono dei momenti estremamente brillanti, di scambio di battute. Spero che non entri in troppo l'ambulanza nell'audio. Comunque, sono scritti molto bene. Sono scritti molto bene i dialoghi. Sono divertenti. Infatti, il film ogni tanto sembra una commedia bella, proprio divertente, ma è strano. Ti fa stare anche male. Certo, devi essere... Ah, non si sente l'ambulanza. La sento io e mi ferisce nel cuore. Sembrava qui l'ambulanza. Io non lo so, mettetevi d'accordo. Oppure, può essere che ne sia passata contemporaneamente una da me e una a casa di Thomas. Comunque, io sono abbastanza in centro a Milano, quindi le ambulanze sono ambulanze, carri armati, polizie, carabinieri, forze speciali, big gym, tutto attrezzato. Tutto passa di qua. Tutto passa. Niente, quindi, per me è un film eccezionale, un horrorofilo che ama il genere distopico, non distopico, però psicologico, insomma, i più svariati tipi di horror e thriller può comunque apprezzare questo film, perché comunque è un film che ti fa un po' star male per certe cose. È veramente brillante. Veramente un film notevole. Fatemi vedere un attimo cosa ha fatto questa regista qua perché io la voglio tenere d'occhio, insomma. È un'attrice, questa regista. E questo è il suo primo lungometraggio perché prima di questo ha solo un cortometraggio. è molto brava, molto... Mi viene da dire, sì, non è un horror, però i Raper and Revenge sono degli horror? Fondamentalmente no. Fondamentalmente... Cioè, sono dei thriller estremamente violenti, però alla fine non sono proprio horror, ecco. Sono, diciamo, rientrano, ma ci rientrano un po'. A me va bene. Per come ragione io faccio rientrare tantissime cose nell'horror. Tutto ciò che mi disturba e disturbante per me è horror. Quindi questo film potrebbe piacervi se vi piacciono i Raper and Revenge, se vi piacciono gli horror con un filo di ironia, se vi piacciono gli horror con un significato sociale forte. Quindi vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere al cinema. Io fortunatamente l'ho visto al cinema in antiprima stampa. Dopo più di un anno torno a vedere un film in antiprima stampa al cinema. Quindi proprio per me è emozionantissimo. Spero che il mio giudizio non sia condizionato anche dall'entusiasmo che ho provato nell'essere finalmente in sala. Poi una bella sala piccola, ma comunque la qualità era buona. Il pubblico, insomma, gli altri colleghi sono stati tutti estremamente educati. Quindi mi sono trovato molto bene. Bravissimi gli attori, non tutti, altri erano un po', insomma, attori, appunto, sembrano attori da commedia, mentre i protagonisti, soprattutto la protagonista, secondo me, è estremamente brava. Mi ha coinvolto molto, mi ha trasmesso molto. Ci ho visto... Io personalmente poi ci ho visto delle persone estremamente tristi che ho conosciuto nella mia vita. Le ho... l'ho proprio vista e raffigurata in lei. Quindi mi sono sentito anche molto coinvolto. Per me è assolutamente un ottimo film. Non dico da strapparsi i capelli. Cioè, non è il classico film che a me entra. Però è veramente talmente è talmente importante il messaggio sociale, politico, insomma, sì, sociale soprattutto, che manda. Ed è talmente difficile farlo tramite un film senza scadere in banalità, in retorica, che io faccio veramente gli faccio i complimenti a questa regista. So che non gliene potrà fregare di meno, però glieli faccio. E la ringrazio. Io ringrazio Emerald per aver creato un film del genere. Se una donna parte, cioè una donna, insomma, un regista, una regista parte con questo piglio qua, con questo ritmo qua, siamo siamo a posto, ragazzi. Questo è è una gran cosa. Scusate, leggo un po' i vostri commenti, quindi lo io sarei io sarei ironico, sarcastico, gentile Patreon. Non ho capito perché. Il film comunque lo recupererò e vi dirò la mia opinione anche se non me ne frega un emerito cazzo. Viva la democrazia. In chi senso non me ne frega un emerito cazzo? Cioè, oggi è ubriaco Davide Perino. Per spiegare la differenza adesso. Allora, ragazzi, se volete farmi delle altre domande, fatemele. Io sto perdendo delle decisioni particolari. Ah, se non ve ne frega, scusa, 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 bisogna sempre specificare questo rimbambito. Ma certo che mi frega la tua opinione, Davide. Cioè, come continuo a ribadire, forse qualcuno non mi crederà. Per me questo progetto è un progetto che ha come scopo quello di creare una community dove c'è uno scambio e una crescita di tutti. Poi è chiaro che io ci tengo a trasmettere quelle che sono le mie ideologie sul cinema, ma non voglio convincervi che un film è bello, un film è brutto per una questione di... cioè, non riguardo al singolo film, non me ne frega niente se voi dite, se voi dite, sì, ok, ho capito i tuoi ragionamenti su Antebellum ma a me non piace, allora non è che io mi impunto e gli dico, no, vi deve piacere. Per me può anche non piacervi l'importante è che abbiate capito i miei ragionamenti. Poi, se non li condividete potete tranquillamente provare a proporre dei ragionamenti diversi, non a disfare i miei ragionamenti perché disfare i ragionamenti è anche facile. Magari non proprio tutti i ragionamenti sono facili da disfare, però è molto difficile proporre delle chiavi di lettura. Ecco, io quello che faccio quando parlo di un film è proporre una chiave di lettura. L'ho fatto adesso con una donna promettente e chiaramente se potessi spoilerare ora sarei qua ad urlare alla rivoluzione femminile e a chissà che cosa perché mi entusiasma questa voglia di uguaglianza, questa voglia di diritti, diritti negati perché continuiamo a vivere una società con persone di serie A e persone di serie B, ricordiamocelo sempre. Chi lo nega è un fottuto bastardo e questo è insindacabile, cioè chi nega questa cosa è una persona di serie A. Chi lo nega. Tutte le persone che mi rompono i coglioni sul razzismo, ah non è razzismo, sono sempre bianche e tutte le persone che mi rompono i coglioni su quando cerco di portare avanti i temi sull'uguaglianza femminile sono sempre uomini quindi nessuna donna mi ha mai rotto il cazzo su quello che propongo anzi anzi si stupiscono che un uomo lo faccia io vi consiglio se volete avere anche successo con le donne fate come faccio io anche se io non lo faccio per quello però vi assicuro che farete una buona impressione anzi una super impressione però credeteci anche perché è utile ho controllato la programmazione di tutti i cinema nelle tre province vicine non lo fanno da nessuna parte immaginatevi il mio disappunto allora dovete sapere una cosa interessantissima di una donna promettente cioè il film doveva uscire oggi mi sembra ma quindi c'era l'anteprima stampa il 12 e l'uscita il 13 proprio giusto per dare il tempo alle persone di scrivere una recensione prima che lo vedano tutti gli altri comunque è stato stoppato perché il doppiaggio di un personaggio del film che è un personaggio transgender quindi un personaggio che ha avuto nella versione italiana del doppiaggio un uomo per una questione etica è stato scelto di cambiare il personaggio uomo cioè il doppiatore uomo non per l'incapacità perché è stato specificato che ha fatto un ottimo lavoro è stato cambiato con un'attrice doppiatrice femmina perché il personaggio è un transgender che ha tutti gli effetti una donna legalmente e ciò che si sente lei allora io dico questa cosa perché chiaramente quindi è stato spostato l'uscita del film al 24 giugno se non ricordo male comunque stiamo parlando di proprio quasi un mese di differenza secondo me tutta questa operazione è stata voluta anche dalla produzione del film perché questo è un film molto legato alla tutela e alla lotta delle minoranze alle minoranze come donne e quindi le minoranze anche come transgender allora io dico una cosa uno potrebbe dire ma qua ma là non ci sono non ci sono ragioni anche se la persona transgender ha una voce che potrebbe sembrare quella di un uomo perché è nata uomo la sua condizione all'anagrafe se fa tutto quello che deve fare è diventare donna se diventa donna e oltretutto prende anche degli ormoni e a quel punto la sua voce cambia non vedo perché se lei si sente donna e viene doppiata non debba essere doppiata da una donna punto non c'è per me non ci sono cazzi perché perché è una questione di rispetto nei confronti dell'attrice che legalmente è una donna e quindi vuole essere riconosciuta come una donna e quindi va nel bagno delle donne a pisciare e quindi deve avere la doppiatrice donna questo è integrazione e accettazione della condizione di genere che uno si sente che non è ragazzi non 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 facciamo i cioè non è che uno si sveglia oggi mi sento donna domani mi sento uomo domani mi sento pipistrello batman no è una cosa molto dolorosa cioè nascere nel corpo di un uomo quando tu mentalmente sei una donna è come se fosse una maledizione e non è essere omosessuali è un altro discorso non è essere gay è un altro discorso ci sono gay che sono assolutamente felici di avere il peli sul petto il pisello e tutto il resto anzi guai a toglierli ma io penso che lo vedrai perché il fatto che non sia il 24 giugno vabbè poi vederlo è 25 comunque io penso che lo vedrai perché adesso non lo trovi perché non è ancora uscito è stato spostato tutto comunque chiudendo il discorso del transgender il motivo per cui è stata fatta questa cosa è chiaramente uno senza fare tutti questi ragionamenti di rispetto per la persona un attore un attore di Hollywood transgender e chiaramente la prima cosa che dice ma che cazzo è ma se è un uomo è un uomo no no bisogna sempre andare un attimo a fondo alle cose se voi foste al posto di quella persona lì e voleste essere delle donne perché così vi sentite da quando siete nati vorreste anche che il doppiaggio in tutti i paesi del vostro film del vostro personaggio sia doppiato da una donna e questo e con questo chiudo anche l'ennesimo tema sociale che tengo insomma a cui tengo io non sono né transgender né donna né nero né omosessuale o non lo sono neanche troppo diciamo e quindi cioè mi girano i coglioni a vedere le persone trattate diversamente o che qualcuno gli cagli il cazzo quindi io sono qua anche per questo a parlare a quattro sfigano non so che sto scherzando a parlare no a quattro voi siete degli eroi che siete qua a ascoltare me perché io non lo so come però vi ringrazio comunque sono contento perché è bello è bello chi mi scrive ma chi ma questi sono pazzi è bello poter parlare di cinema così cioè parlando anche di quello che il cinema porta e cambia nel nel mondo secondo me è un è un mezzo incredibile trainteso e tutto quello che vuoi però dico una cosa oggi ho avuto una discussione pacifica con un follower e che mi dice ah ma certi film sul razzismo possono essere fraintesi e fare peggio allora calmi tutti il fatto che una cosa venga fraintesa perché uno è ignorante non può limitare l'evoluzione umana se no allora libri di scienza scusa sono fraintesi uno vuol costruire vuol fare una medicina e fa una bomba che cazzo c'entra cioè non me ne frega un cazzo cioè il cinema è uno strumento artistico e di comunicazione e benvenga se viene usato per portare avanti dei discorsi politici promozionali di un'evoluzione che ancora manca benvenga perché il cinema è molto potente e come il cinema ci ha insegnato sbagliando a ritenere le donne inferiori come ci ha insegnato questo ora ci deve insegnare il contrario perché allora non vale scusa andava bene quando ci spiegava che la donna doveva stare in cucina e ora oppure che fumare era bello era da fig tutti i film prima si fumava sembrava che fosse secondo me il cinema può anche non essere può anche non essere educativo può anche essere politicamente scorretto ma non deve non essere il contrario ecco non bisogna limitare e dire no i film non devono insegnare non devono far politica no i film possono fare tutto il cazzo che vogliono possono anche essere politicamente scorretti per me poi chiaramente uscendo e dicendo delle cose negative poi si prendono anche tutte le le critiche del caso cioè uno ha il diritto di dire delle cose però poi ne deve pagare le conseguenze ma quindi tu il film l'hai visto in lingua originale o la versione doppiata che non sentiremo mai no no io l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli e mi è piaciuta anche la recitazione ripeto soprattutto degli attori protagonisti soprattutto l'attrice protagonista gli altri non li ho trovati così eccezionali ma comunque bravi cioè diciamo facevano il loro però è stata un po' strana la scelta perché alcuni attori di questi qua vengono fuori per esempio Adam Brody mi sembra che sia quell'attore che è nato in O.C. quella serie tv per ragazzini che era un po' la versione moderna di Beverly Hills 9210 quindi sono tutti un po' ma io credo che sia una scelta voluta perché si è voluto dare quell'impressione di bravi ragazzi tipica del dell'immaginario americano cioè il bravo ragazzo che poi in realtà è un figlio di puttana ecco perché poi come si dice l'occasione fa l'uomo ladro o l'occasione fa l'uomo stupratore ecco quindi in quel film lì il concetto è questo quindi secondo me la scelta è anche intelligente di usare attori attori che sono i tipici attori da commedia da telefilm e sitcom anche ci sono attori di sitcom classici nerd e cose così quindi quella è un po' la scelta che è stata fatta sto ancora a dieci minuti e poi stacco spero che sia stata abbastanza esaustiva la recensione perché vabbè chiaramente da un punto di vista cinematografico cioè di regia eccetera non ci ho visto niente di particolarmente sofisticato diciamo che il compito è stato fatto abbastanza bene da non distogliere è girato abbastanza bene però non c'è niente che che sovrasta la storia che ti fa pensare che l'attenzione sia stata spostata di più sull'estetica piuttosto che sulla storia è proprio un film ben diretto ma molto concentrato sul messaggio sulla storia sulla trama forse anche per questo la trama viene fuori così bene è un buon film con una buona pasta asciutta insomma sì non non farai una una paragone con un prodotto di consumo perché comunque è più importante cioè lo definirei più come un buon libro come una una un buon manifesto politico più che un prodotto che può essere buono ma si esaurisce e non ha significato non è che supera il mezzo è che io credo che il cinema sia bello anche quando il mezzo è asservito al messaggio cioè quando il mezzo è molto al servizio della chiarezza d'intento e della chiarezza del messaggio per esempio ci sono cose sofisticate secondo me una cosa sofisticata che c'è all'interno del film è una cover di una canzone di Britney Spears che si chiama Toxic che io ho capito ho capito essere una canzone non scelta a caso al punto tale che quando ho finito il film ho pensato devo andare assolutamente a vedere la traduzione di Toxic la canzone di Britney Spears perché e infatti e infatti la canzone vi leggo la traduzione la canzone dice baby non vedi che sto che sto chiamando un ragazzo come te dovrebbe indossare un cartello pericolo è pericoloso sto cadendo secondo me la canzone nel film non vi dico che modifica è stata fatta questa canzone perché è bella e voglio che ve la gustiate però è proprio è quasi come se questa canzone fosse stata un po' posseduta da una forza malefica e l'ho trovata una bella cosa e non era una cosa banale insomma è un film girato bene ma al servizio proprio del messaggio e quindi non penso che sia un valore in meno cioè sto come allora io poi interpreto i vostri messaggi che sono fatti di cinque parole quindi non voglio attribuirvi dei significati che magari non volevate dare però non vorrei che fosse o uno o l'altro cioè non vorrei che l'interpretazione di un film fosse allora la storia era più importante era più bella della realizzazione del film no il film è realizzato con un pensiero molto legato al messaggio che si vuole mandare per questo vi ho detto che la scelta del cast appunto con tutti questi attori provenienti da sitcom e serie tv e commedie qui di facce da bravi ragazzi nerd poi nerd dalla big bag theory diciamo no è stata pensata in un certo modo quindi è intelligente secondo me e questo fa parte della realizzazione cioè la scelta del cast fa parte della realizzazione del film la scelta della musica certe scene certe scelte di vestiti di cose è molto intelligente come film semplicemente non è un film che si esprime tramite delle delle come si dice dei tramite l'estetica esasperata cioè non è ref non so come dire però non è che non è che è fatto male capito per me è fatto bene con qualche difetto con qualche difetto ma diciamo che sono più che i difetti è molto difficile definire difetti sono anche questioni di un po' di gusto personale secondo me nel senso che veramente non sono così criticabili ecco bisogna anche essere un po' aperti anche all'idea che a meno che non sia veramente uno strafalcione un errore qualcosa che stona con tutto il resto anche se a volte quando noi percepiamo una stonatura in un film a volte è evoluta quella stonatura quindi è la volontà di crearci un disagio a tal proposito chiudo con l'ultima l'ultima cosa che voglio dire ma poi la riprenderò anzi invito le persone che con me discutono su facebook di queste robe perché io non posso discutere one to one con tutti vi invito a venire qua anche a litigare nel senso litigare amorevolmente farmi incazzare perché sapete che mi accendo grande Davide mi è stato detto ah guarda la protagonista di Antebellum è spocchiosa e è troppo ricca da una persona che chiaramente si definisce non razzista e che ha apprezzato il film allora io dico hai apprezzato il film però cazzo abbiamo dei problemi qua abbiamo il problema che tu hai una visione delle persone di colore un po' limitata cioè le persone di colore non possono essere troppo ricche perché sennò ti stanno sul cazzo cioè ti infastidiscono diciamo e non possono essere spocchiose cosa che poi tra l'altro lei non è cioè il percepire una persona vincente family leader diciamo perché anche il leader di famiglia è anche brutto da dire l'uomo di casa è il personaggio più forte in casa non che l'uomo sia però è un personaggio decisionale caratterialmente allora il fatto che sia così e che scriva un libro e che sia brava a fare un discorso in pubblico o che esca fuori a divertirsi a scherzare con le sue amiche in maniera anche tra l'altro abbastanza educata lei rispetto all'amica un po' più grassiutella cioè lo trovo come fai a definirla come si dice non sfacciata cos'è che ho detto arrogante una roba del genere cioè è proprio questa è una frase queste sono frasi intrise di razzismo involontario chiaramente mi rendo conto che uno non lo percepisca però dire così significa non permettere un certo tipo di comportamenti e status sociale alle persone nere cioè non accettarlo perché? perché siamo condizionati a pensare che solo il ricco può essere bianco e snob e se lo fa non ci dà neanche più tanto fastidio perché siamo abituati e poi comunque lei non è snob assolutamente no cioè qualcuno mi venga a spiegare in che momento lei è arrogante o è una persona che deve migliorare qualcosa da un punto di vista caratteriale o del suo rapporto con gli altri o se è disonesta in qualche maniera qualcuno mi deve spiegare dove questo personaggio è così negativo per la società perché io non l'ho vista questa cosa anzi l'unico momento in cui lei diciamo è un po' debole è quando ha paura a reagire quindi lei fa lo stesso errore che sta cercando di spronare gli altri e non fare cioè di non essere deboli di non essere nuovamente soggiogati e non accettare più certe cose e allora però è un momento di debolezza tollerabilissimo perché siamo tutti così tutti abbiamo paura quindi ragazzi cioè ma anche l'uso delle parole che facciamo cioè andiamo scriviamo tonnellate di commenti alla Africa così senza neanche pensare a cosa stiamo scrivendo ma cioè ci vuole un po' di ah io ho bisogno di esprimere così però cazzo non posso rispondere a ogni singola persona poi per fortuna l'interlocutore qua è un ragazzo molto educato e pacifico però pieno di gente che poi ti manda a fanculo perché tu gli dici come stanno i fatti i fatti stanno che antebellum non descrive assolutamente un personaggio odioso diventa odioso proprio perché c'è del razzismo intriso dentro ognuno di noi io per fortuna me ne sto liberando però c'è anche in me bisogna è un po' come ammettere di avere una dipendenza bisogna ammettere che si ha questo problema questo pregiudizio per potersene liberare bisogna essere consapevoli di essere razzisti consapevoli di essere tutta una serie di cose sbagliate che ci sono state inculcate dalla televisione dai nostri genitori dai nostri parenti dalla nostra società mi sono un po' addombrata con la storia della doppia giù da rifare lo ammetto ma non capisco cosa intendi addombrata c'era attristata io ti ho spiegato il mio punto di vista poi non lo so se non sei d'accordo vuoi dirmi perché ma io penso che se mi mettessi nei panni di un attore transgender io domani io mi sento donna voglio che il primo passo della società che chiedo e che accettino è il fatto che io sono una donna e quindi voglio il doppiaggio femminile e voglio andare nel bagno e femmine voglio essere accettato al cento per cento accettata al cento per cento come una donna dovevano dirlo prima non ha lavoro finito ma ho capito con i secoli ma però anche io tante volte faccio dei lavori e poi me li hanno spiegati male dovevano dirlo prima dovevano saperlo prima loro non dovevano dirlo prima cioè chi l'ha fatto il doppiaggio doveva porsi il quesito e dire scusa questo è un transgender dobbiamo mettergli la voce da donna purtroppo non siamo ancora pronti alla cultura dell'integrazione dell'inclusione del rispetto non siamo ancora pronti a questo e quindi ci sono questi strafalcioni ma io penso una cosa se tutta questa vicenda è avvenuta con grande rispetto sia da una parte che dall'altra non ci vedo nulla di male nel senso da una parte avranno detto eh ma ragazzi qua avete messo un uomo sarebbe più giusto mettere una donna dall'altra parte se hanno detto ah cazzo effettivamente hai ragione e niente rifacciamolo ci dispiace non ci vedo nessuna polemica insomma magari fosse così il mondo ma non è una questione di com'è la voce della persona originale perché la voce della persona originale non è la voce cioè è come dire che se tu fai un ragionamento del genere allora devi dire che i doppiatori devono avere anche la stessa etnia e che per doppiare l'uccellino cioè nel senso di un cartone non è quello il senso un cartone animato può essere doppiato anche da un pappagallo vero o da un chiunque da un pazzo maniaco ok perché perché un uccellino disegnato dalla Walt Disney non gliene fotte un cazzo nessuno nessun cartone animato come in Roger Rabbit si offenderà quelli di Roger Rabbit si offendono ma sono tutti dentro ai 90 minuti del film ma qui è una questione di rispetto dei diritti civili non di che voce aveva poteva ci sono donne che hanno una voce maschile allora se fanno se vengono doppiate Valeria Golino Valeria Golino si chiama quella attrice che ha voce così se venisse doppiata in America avrebbe una voce di una donna non di un uomo perché la sua vera voce è una voce di merda scusatemi mi perdoni anche lei se ho fatto questa battutaccia quindi è una questione di diritti civili non che se io conosco tantissime donne non tantissime per fortuna mia che hanno una voce brutta da uomo bassa brutta che rimane un po' così e allora queste dovrebbero essere doppiate da uomini per essere per fare le cose vere oppure dobbiamo doppiare cioè i bianchi devono doppiare i bianchi i bianchi i bianchi i bianchi i bianchi i bianchi no è una donna lei è una donna legalmente e deve essere doppiata da una donna perdonatemi eh io mi rendo conto che mi rendo conto che quando uno assorbe una notizia così e lo succede anche a me fa tutta una serie di ragionamenti superficiali all'inizio quello che è importante è farli tutti vi giuro che succede non è che voglio mettermi sul piedistallo succede anche a me quello che bisogna fare è iniziare a scavare sopra tutti questi ragionamenti superficiali perché sono frutto sono frutto di come ci hanno fottutamente fottuto il cervello educandoci male educandoci male e soprattutto buttandoci davanti alla televisione che era una fottuta spazzatura con tutto il bene che possiamo volere a i fichissimi con Abba Tantone e Jerry Cala e tutte ste altre stronzate però ci riempiva la testa di merda sia quello che anche i film americani e tante altre cose allora io dico quando arriva la notizia anche a me capita di dire ma aspetta ma se è un uomo allora poi però devi smontare tutte queste cose e andare alla base e pensare qual è la cosa più giusta per lui o lei scusatemi per lei transgender legalmente donna questa è la cosa giusta nel rispetto della sua condizione di di persona che purtroppo per lei è nata in un corpo maschile ma si sente donna se vi informate sul mondo transgender e guardate delle robe vi giuro vi viene l'angoscia per loro perché qua non stiamo parlando del capriccio di voler essere una donna o della perversione nel senso che è una perversione che si sviluppa nel tempo e allora poi alla fine uno vuole essere donna non è quello non è Norman Bates che si veste da sua madre quello è un altro discorso queste persone dal momento in cui nascono sono così e i primi anni di vita cioè iniziano già 3-4 anni a capire che loro dicono ma perché sono così che mi sento cosà e sono confusissimi è come una specie di maledizione è come nascere ragazzi se nasce gente con due teste se nasce gente con due teste sarà possibile che una donna nasca nel corpo di un uomo con i geni di un uomo cioè con la voce di un uomo il corpo di un uomo il pisello le peli sul petto se le persone nascono con due teste è possibile possibilissimo questo è possibile non è possibile tutta la spazzatura che c'è nel The Congiuri Universe quella è una merda cioè ci sono delle magie e maledizioni incredibili nella vita una di quelle è nascere se guardate qualche documentario fatto bene magari sul mondo transgender scoprirete veramente che è veramente qualcosa di assurdo cioè è come essere bloccati come in un film fantasy essere per magia bloccati nel corpo di un'altra persona questo è non che è di un'altra persona è il tuo corpo perché ci sei nato ma non corrisponde al tuo genere perché noi abbiamo un genere che non è omosessualità non è mi piacciono gli uomini allora voglio diventare donna è un'altra cosa comunque va bene ragazzi mi è piaciuto un sacco parlare con voi di questo e sono contento che ne abbiamo parlato probabilmente ora qualcuno mi aderà più di ieri però me ne è fatto i coglioni vi voglio bene e Una Donna Promettente è un bel film sicuramente io gli do un voto superiore per via del fatto che sapete amo i film che trattano temi sociali che trattano i diritti civili i diritti delle minoranze di ogni genere per cui prendete con le pinze anche imparate anche a conoscermi come recensore in modo che possiate anche regolarvi se avete capito che a voi non ve ne fotte un cazzo del prossimo potete andare a vedere Spiral di Pinco Pallino e Tizio Caio e Sempronio eccetera dai produttori di un giorno devo riuscire ad avere qua Macho Cap sapete che Macho Cap è un fan dell'horror è un fan dell'horror e le prime cose che lui ha iniziato a girare nella sua vita erano tipo dei cortometaggi horror che nessuno aveva visto ho visto un'intervista dove lo diceva non è che io lo conosco comunque fa troppo ridere comunque va bene infatti se ci fate caso lui ogni tanto fa degli sketch sull'horror tipo aveva fatto la pubblicità di Infinity Ash vs Civil Dead aveva fatto devo andarle a recuperare ho fatto degli spot su Ash vs Civil Dead va bene e ragazzi poi fatemi sapere come va questo nuovo microfono ho cambiato un po' di cose migliorare un sacco di cose sto convincendo Pilipino ad aprire Twitch poi vi racconterò perché vi ringrazio per avermi seguito ci vediamo alla prossima live ciao ciao